Emergenza Covid fase 2. Con un'ordinanza emanata il 3 maggio, la Regione aveva imposto ai datori di lavoro intenzionati a riaprire, di redigere ed inviare online un protocollo di sicurezza anticontagio che recepisse le misure di contenimento per la tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia molte aziende hanno incontrato difficoltà e quindi, su proposta dell'assessore regionale alla Presidenza Vittorio Bugli, non rampò i protocolli potranno essere inviati anche per mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo anticontagio chiocciola regione.toscana.it. Non saranno accettati documenti inviati per PEC. La compilazione dei protocolli anticontagio deve avvenire entro 30 giorni dalla riapertura dell'azienda. Per quanto riguarda le imprese che avevano riaperto il 18 aprile, la scadenza iniziale del 18 maggio è stata prorogata al 31 maggio. Grazie. Grazie.